Allora intanto voglio ringraziare Lucia e tutto il teatro olimpico e mi ha dato questa opportunità. Questo è un spettacolo che nasce da lontano, un piccolo spazio di Roma che è stato bello di scrivere, sei anni fa. Un spettacolo che ha visto nascere per un'urgenza, quella è l'urgenza di far nascere uno spettacolo. Questa è stata le persone che mi dicevano ma scusi lei è un attore o un doppiatore? Una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte. Alla fine c'è io che faccio uno spettacolo che è stato il teatro, io sono nato con il mio maestro Vittorio Gasman ormai 42 anni fa. Quindi ho detto per tutti i miei anni mi hanno visto insomma più che altro lavorare nel doppiaggio italiano, tra l'altro oggi esce il film Elvis con Domenes, insomma l'attore che mi arresta la faccia da anni cinque anni. E questo spettacolo quindi nasce da questa urgenza, io l'ho chiamato appunto il doppiatore, cioè racconto un po' quello al grande pubblico cosa c'è insomma dietro la voce, il doppiatore che li accompagna tutti i giorni in televisione o in cinema. è un grande show in cui doppio d'abbio ovviamente, faccio vedere come si fa, interagisco con il pubblico, scegno un pratea, gioco con loro, doppio cantando anche alcune clip, gli attori che comunemente doppiano da Robert Downey Jr., da Marilyn, Tomex e altri, ma anche con dottori del passato, racconto un po' com'è nato il doppiaggio, quindi ho un spettacolo fatto come battista, io vorrei portare, come è successo in passato, in teatro il marito, la moglie, il bambino piccolo, domino grande, il nonno e la nonna, tutti e due, senza nonna, possibilità anche con il nonno che non è morto insomma. Devo dire che è andato piuttosto bene in questi anni, è un piccolo che ha avuto molto successo, devo dire, e quindi insomma è una bella sfida per me, venire a questo meraviglioso spazio. Sì, devo dire che abbiamo iniziato già, stiamo lavorando molto bene con l'organizzatore generale Francesco Maggio, che è qui con me, Isabetta Castiglioni, che c'è stato, e tutti i miei collaboratori. Stiamo già lavorando bene, spero che sia veramente gradito al pubblico dell'Olimpico come è stato questo piccolo spazio. Vi ringrazio. Io non sono Iron Man, so Lillo. Lillo vorrebbe entrare negli Avengers, bisogna vedere se ha le doti, se ha le capacità. Perché lui è un grande posaman, eh? O Normal Man. Normal Man. Però proviamo, voglio essere Iron Man, però. Eh, non lo so, vorresti essere Iron Man? Beh, io sono Iron Man, proviamo, eh. Io sono Iron Man.